la zona a tutti qui è monkey di andre come al solito andiamo a continuare la serie di questo fantastico gioco cioè spyro 2 riptos rage della trilogia spyro rake knighted trilogy dopo aver preso tutto in tundra d'inverno del mondo della tundra d'inverno andiamo a recuperare quello che ci manca negli altri mondi dire di iniziare da oasi ombrosa vi faccio vedere un modo per viaggiare molto più velocemente nel caso non lo sapeste andate su oasi ombrosa in questo caso fate x viaggia senza schiacciare due volte perché sennò fate resta e andate su viaggia direi che possiamo andare così completiamo questo livello al 100 per cento bella scenetta l'abbiamo vista l'altra volta ok eccoci qua sappiamo già che cosa dobbiamo fare sì sì dobbiamo colpire il cespuglio per far scendere c'è la ciliegia tani sficciati guardate che ci ha colpito sto cretino ah ma il tizio che lo fa ritornare in armare quindi ok allora ovviamente noi da qui non possiamo salire quindi dobbiamo fare il giro lungo allora 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 ma intanto ci pigliamo una bella vita che noi dobbiamo andare lì ma da qui non ci arriviamo dai muoviti oh ma sculetta tu mi hai rotto ok possiamo andare lì salto bruttissimo ce la facciamo sì 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 allora guardiamo ci mancano 20 gemme più una sfera la sfera da cavolo è finito il tipo dobbiamo andare a parlare con quello lì ma mi sa che comunque dobbiamo prima sconfiggere 18 avversari ah vabbè intanto pigliamoci le gemme non so se sono 20 sì mi sa di sì 5 per 4 20 perfetto ora vediamo se senza bisogno di attivare il portale ok non potremmo immaginavo va bene dobbiamo fare tutto 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 il giro vabbè è da fare lo facciamo voglio dire smettila tu muori così tu hai lo scudo ti ammazzo qua là dai dai non vi fate perdere tanto tempo ovviamente faccio veloce perché sennò non finiamo più ok siamo a 9 cattivoni sconfitti come ti ho detto guarda che stupido che sei se ti aiuto e mi rompi pure la scatola che cavolo guardo indietro che tanto non c'è niente da prendere ma donna stiamo facendo spacelli ok sì la pallina mi serve però prima ammazzo loro va bene ma teoricamente siamo a 18 cose 19 forse ma già che ci sono che fai sii scema non lo so ma io torno indietro forse potremmo tornare indietro da un'altra parte ma ormai no di nuovo di qua sì ok vediamo cosa vuoi adesso ok sì sì lo so già come si fa sì devi fare vedere dove sono i tuoi fratelli ok poverini due ci basterà un solo due cinque ah beh beh dai ce li metto tutti qui sei sì era giusto la cosa di dover sbloccare il potenziamento sette l'ultimo otto posso darti solo questa va benissimo va benissimo ok prima sfera recuperata ora allora io direi di andare verso casa da dove si saliva ah mi sa che dobbiamo completare il livello ok andiamo a completare il livello perché non so se li salva quindi meglio così cioè potremmo fare esci ma non vi assicuro che poi vi salva quello che avete preso cioè finché si tratta di prendere un punto abilità quello lo vedete che ve lo dà subito ma questo non vorrei doverlo rifare da capo quindi tanto non mi costa niente dai aspettiamo che ci sfondi sta porta e andiamo a casa ciao ci vediamo ah non ci fa la cosa delle gemme che ci dà va bene va bene lo stesso ok oasian brosa completata al 100% andiamo a fare colline frattura viaggiando sempre in questo modo e siamo già al 78% dei progressi viaggia ok eccoci qua parliamo con la tizia sì 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 no stavolta la scenetta no ti prego me la devo vedere tutta no ok dobbiamo andare a cercare Hunter che abbiamo liberato dovrebbe esserci anche un trofeo fatemi vedere se funziona no ti prego ma fatemi vedere di qua basta ci sfondi l'ultima volta mi hanno dato un sacco di problemi sti rompiscata dai ma devo rifare tutto mi sa di sì la teta abbiamo già liberato quanti ne devo sconfiggere e di sì di rompiscata per attivare la supercarica dai 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 sì sì va bene va bene dai dai che bella che frega qui c'è lì sotto c'è il portale non mi interessa stai zitta 14 siamo a 11 niente dobbiamo per forza andare ad uccidere almeno un mostro un mostro di là dai su mi fa perdere tempo io ti prego ok ora abbiamo il portale attivo non mi ricordo però Hunter è già salvo dobbiamo salvarlo di nuovo no qui era la porta che si apriva tra l'altro c'è un trofeo che si sblocca se uccidiamo i mostri di pietra tutti nessun punto abilità eh però ma fatemi vedere se Hunter è libero dimmi no non è qua da cavolo era dai liberiamo di nuovo Hunter mamma mia anche questo qui va a zip dive noi si riusciamo al primo colpo questo va a destra dai devi fare ancora tanti giri dai che siamo quasi da Hunter dai liberalo che ammazziamo sti terraformisti oh che bravo oh i miei piedi stanno meglio ti occuperesti di questa cosa per sì vabbè ce l'avevi già data dai mi daresti una mano a togliere di mezzo questi ostinati plasmatori terrestri sono qui per questo quando colpisco un plasmatore terrestre con una freccia dagli una testata prima che si rialzi ricorda per dare una testata devi sì sì lo sappiamo già 4 di 4 stelle di difficoltà ma come faccio la tuba li butti per terra ah così grande grande quale colpisci prima ok oi sì vabbè certo ok 4 stelle loro si riformano abbiamo ucciso Peppa Pig dai però senza perdere tempo colpisci colpisci questo tradimento io sto facendo altro dai e il terzo l'abbiamo fatto fuori sì chi è tirato il tuo maiale siamo una grande squadra abbiamo finito oh ok va bene va bene abbiamo preso la sfera molto bene niente trofeo guadagnato completato il livello al 100% molto bene sì siamo al 100% 78% di gioco però io voglio fare un'altra cosa voglio prendermi il trofeo per il trofeo mi sa che devo andare ad ammazzare gli altri però li ammazziamo solo solo buttandoli dentro la lava mi sa anche perché diversamente dai ammazziamo tutti sti terraformisti aspettate dopo essere riuscito a far perfetto contro gulp non mi fate più paura guarda quante spinte devo dare a questo qua ok ciao ciao vai di dentro 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 dai mi dai sto trofeo quanti li devo ammazzare guarda quanti ce n'è no dai ma che l'ultimo sì che stress no secondo me ci sono ancora quelli lì verso l'inizio ciao ciao ancora niente va bene va bene no non va bene però allora fatemi tornare di qua sfondiamo tutto tanto dobbiamo finire anche il livello quindi allora qui li abbiamo distrutti tutti perché c'era hunter che ce li buttava giù quindi dai ok ci sono ancora questi oh in due mi hanno colpito addirittura ok mi avete rotto giuro che avete rotto ma quanti siete quanti cavolo siete ancora dai ok spero tu sia l'ultimo ci spero proprio dai colpisci ah posso tenere anche preluto che bello oh niente trofeo ancora ma quanti ce n'è oh killer dei giganti e che cavolo dicevo io va bene un po' ma quanti ne avevano messi se no se già così sono tanti ok io direi che possiamo tornare a casa così finiamo il video per tornare a casa bisogna andare di qua perché abbiamo liberato se non sbaglio la principessa qui si 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 dai dai dammi sto talismano che me ne vado tu mi senti patica che non avevi bisogno di essere salvato tu ma cagate addosso andiamo a casa e finiamo il video molto 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 bene molto bene perché perché tutti i livelli che abbiamo fatto ne abbiamo completati al 100% guardate che bello che soddisfazione tutto 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 anche nel nuovo mondo abbiamo fatto il primo livello al 100% e nel prossimo episodio andremo a fare un livello del nuovo mondo ovviamente va bene io vi chiedo di lasciare un grande like se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina come sempre lasciatemi tanti commenti qua sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie di questo video di questo gioco se vi sta piacendo e niente noi ci vediamo alla prossima ciao ciao